Il sold out del Palacoscioni per il match di volley femminile Italia-Brasile è stato celebrato come un successo anche dai canali social ufficiali della Trentesima Universiade e della Lega Pallavolo Serie A femminile. Il palazzetto di Nocere Inferiore, gremito all'inverosimile, è una delle cartoline più belle della storia sportiva cittadina. Un evento nell'evento perché Nocere Inferiore ha ben accolto tutte le partite ma ieri ha dimostrato il meglio per il match di volley che ha visto la nazionale universitaria italiana di pallavolo svettare per 3-7 a 0 sugli atleti carioca. C'era credo che sia una delle città che sta rispondendo meglio, forse anche la felice intuizione dell'amministrazione, il risultato portato avanti nel 2016 con l'assessore Amato di avere due impianti sportivi in disponibilità, quindi fu un accordo raggiunto con l'avvocato Lentini che è il responsabile dell'organizzativo delle universiadi, di poter mettere a disposizione due impianti, il San Francesco per il calcio e il Palacoscioni per il volley. E questo ha permesso una continuità delle presenze sportive, anche importanti di prestigio come ad esempio la nazionale italiana universitaria di pallavolo che ha vinto i quartieri di finale con il Brasile, quindi vi è stata una grande risposta di pubblico, la città è pian piano cresciuta intorno a questo evento come soglia di attenzione, di sensibilità, c'è un impegno generale, un po' di tutti quanti, tutta la fase progettuale non è stata curata dalle agenzie regionali per l'universiadi ma è stata curata dal Comune di Nocere Inferiore, tutta l'attività di progettazione, di controllo e direzione dei lavori, congiuntamente su stimolo ovviamente dell'agenzia regionale, una parte delle risorse economiche a completamento per consentire che venissero disputate qui alcune gare che non era inizialmente previsto, l'abbiamo completata noi come attività amministrativa, quindi per noi abbiamo la possibilità di dire di avere due impianti sostanzialmente rimessi a nuovo. Peccato invece per le iniziative collaterali come quella che nello scorso weekend ha caratterizzato Piazza Diaz, una sorta di sagra che ha suscitato il disappunto del sindaco Maglio Torquato. Io sono stato fortemente rammaricato da questo evento che si chiama Universia di Food Experience e per come si è svolto, era partito con le migliori delle intenzioni, si è ridotto ad una specie di sagra di paese in Piazza Municipio, ho chiesto conto e ragioni agli uffici e agli assessorati di riferimento per questo evento, l'ho fatto ben prima a dire la verità che l'articolo lo mettesse in evidenza, ma questo che ha sollevato il problema non poteva saperlo e attendo una risposta e diffidiamo, ho chiesto di diffidare il soggetto attuatore di quel tipo di manifestazione a non mettere piede più a nocera per come ha gestito in modo da discreditare l'aspetto quantomeno estetico di un evento che si è ridotto ad una fiera di paese. Ovviamente ci sono incidenti di percorsi di questo tipo che a mio parere non vanno ingigantiti ma ovviamente vanno considerati e preventivati e prevenuti per il futuro. Grazie a tutti.